In nove confronti tra lei e lui, zero vittorie per lei, cinque vittorie per Mazzarri. E quindi lui è più forte di me? No, no, le volevo solo... Come no? Ho promesso che... Ha vinto sempre. Ho promesso che insomma siete due grandi allenatori. No, ha fatto la premessa sbagliata. Se i risultati sono questi.